In un momento critico per imprenditori e ristoratori, che ha visto la chiusura di molte attività, c'è invece anche qualche bella notizia. Ecco il messaggio di ottimismo e speranza di due commercianti che non si sono arresi e hanno riavviato due attività. Un coraggio alimentatore dalla speranza e dalla voglia di non mollare. Allora Jimmy, tu sei un personaggio molto conosciuto a Pavia, hai iniziato praticamente come lavoratore dipendente, adesso sei diventato imprenditore e hai avuto il coraggio di aprire questa attività proprio in un periodo in cui la gente invece è scoraggiata. Qui mangia tipo cose easy, club sandwich, talieri, vino, bira, poi inocchio fritto, tigella, piedini, cose tutte semplici. Siete stati molto coraggiosi? Penso di sì. Perché comunque adesso siete ottimisti, la vita riparte? Sì, penso che parte, adesso ormai apriamo tutti e spero che lavora. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Allora, Blue River in realtà non è una mia attività, io sono venuto a collaborare con i proprietari, quindi il plauso va a loro che hanno avuto il coraggio, la forza e la volontà di riaprire, una struttura che era già aperta da anni, ci troviamo a Pavia e è una struttura molto, diciamo, nota nel mondo delle famiglie per il discorso legato ai Grest e ai centri sportivi. Da quest'anno, sfruttando anche gli spazi riaperti, abbiamo deciso di aprire anche a pranzo, sia in settimana, quindi per la pausa pranzo lavorativa, sia durante il weekend con le grigliate, soprattutto dedicate alle famiglie, perché avendo un grande spazio di disposizione all'aperto e gonfiabili per i bambini, questa struttura, insieme alla Lanca Pura Vida di San Martino, è molto identificata per il target appunto delle famiglie. È un periodo sicuramente difficile, però se la bella stagione ti ci dà una mano, sicuramente riusciremo a recuperare una parte del terreno perso durante l'inverno. Sono dei progetti in cantiere, qualcuno verrà sviluppato quest'anno, qualcuno probabilmente l'anno prossimo, perché purtroppo abbiamo avuto il via libera della stagione in stagione già iniziate, quindi organizzarsi adesso alcune cose magari non si riescono a fare. Una delle idee della proprietà è quella di sviluppare un parco biciclette e renderlo utilizzabile, affittabile da qualsiasi tipo di clientela. Noi ci troviamo sul Ticino, su una ciclabile che collega la città, perché siamo veramente appunto quasi in centro città, alla ciclabile di Bereguardo, quindi vorremmo dare la possibilità a chi viene da fuori di affittare la bicicletta e magari di dargli un pacchetto, chiamiamolo così, picnic o schiseta, come si dice da queste parti, dove magari ti porti anche una buona bottiglia dell'oltrepo, è qualcosa da mangiare, è fatto dalla nostra cucina e ti fermi nella zona di Ticino a fare il picnic. Altre idee sono legate appunto all'attività, noi abbiamo molte associazioni sportive che vengono qui durante l'inverno e l'estate a fare sport, viene in mente il taekwondo, piuttosto che il pattinaggio, piuttosto che associazioni che giocano a basket, perché abbiamo anche un campo da basket. C'è un altro progettino che riguarda il fitness, fatto all'aria aperta, però ripeto, c'è tanta carne al fuoco, la stagione ormai è iniziata, quindi qualcosa combineremo già quest'anno, qualcosa magari l'anno prossimo. In bocca a tutti. Grazie. Grazie.